Il Ministero dell'Istruzione, a partire dal 9 ottobre 2023, ha introdotto un piano di welfare che prevede specifici benefits in favore di docenti, dirigenti scolastici, personale amministrativo e tecnico della scuola e personale del Ministero. Si potrà usufruire di sconti grazie ad accordi stipulati fra il Ministero e alcuni operatori che al momento sono Trenitalia, Italo, Iterways, l'aeroporto di Roma, Ciampino e Fiumicino e l'Associazione Col di Retti. Per usufruire di tali egevolazioni bisogna accedere alla piattaforma Polis e Stanze Online utilizzando uno di questi servizi. Una volta effettuato l'accesso, clicchiamo in alto a destra sul nostro nome e cognome, poi su area riservata, infine nella colonna di sinistra sulla voce Agevolazioni per il personale scolastico e MIM. Come potete vedere si accede a una pagina in cui è presente l'elenco di tutte le aziende che hanno già stipulato un accordo con il Ministero. In corrispondenza di ciascuna di esse è presente un link che collega direttamente la pagina di Stanze Online con il sito dell'azienda, quindi attraverso il quale è possibile usufruire dello sconto. Si trova inoltre uno PDF in cui sono contenuti i dettagli dell'accordo, in particolare tutti quei casi in cui è possibile usufruire dello sconto e le istruzioni per muoversi all'interno del sito web. In tutti i casi, per dimostrare di essere effettivamente dipendente del Ministero, è bene scaricare questo apposito documento che si trova cliccando su Stampa. Vediamo come accedere agli sconti previsti da Trenitalia. Clicchiamo su Accedi e veniamo direttamente reindirizzati su una pagina di Trenitalia collegata con Stanze Online. Per poter usufruire degli sconti è necessario essere titolari di una carta freccia. Si tratta di una carta gratuita di Trenitalia che si può attivare anche a prescindere da questi accordi. Se non la possedete dovrete allora registrarvi cliccando su Registrati, compilando i vostri dati personali e vi arriveranno via email tutti i dati relativi alla vostra carta freccia. Se la possedete già inserite lo username e la password della vostra carta freccia e poi cliccate su Entra. Accedendo compare un riquadro verde che ci avvisa del corretto collegamento fra la nostra carta freccia personale e il programma For Business di Trenitalia. Clicchiamo in alto a destra su Acquista, compiliamo i campi di partenza, arrivo, data e orario del treno che si vuole acquistare e clicchiamo su Cerca. Come possiamo vedere sono proposte diverse soluzioni per ciascuna di esse. Sulla destra troviamo il prezzo intero barrato e quello rosso scontato. Si può osservare che sono proposte soluzioni con frecce e intercity, infatti la convenzione vale solo per questa tipologia di treni, non si applica ai regionali. Per scegliere il treno basta cliccare sopra in corrispondenza del treno desiderato, si clicca su Continua, si controllano i propri dati personali e poi si clicca su Conferma. Vediamo come soffrire degli sconti con Italo. Clicchiamo su Accedi in corrispondenza del nome della compagnia e anche in questo caso accederemo direttamente a una pagina del sito di Italo collegata con quella del Ministero. Infatti nel riquadro bianco troviamo scritto codice promo attivo e sotto in quello rosso troviamo i termini e le condizioni specifiche della convenzione con il Ministero dell'Istruzione. Fra queste merita particolare attenzione il fatto che il biglietto deve essere acquistato fino a 10 giorni prima del viaggio per poter usufruire dello sconto. Compiliamo i campi di partenza, arrivo, data e orario e clicchiamo su Cerca. Come possiamo vedere tra le varie possibilità sono presenti alcuni biglietti con la scritta promo, sono quelli in cui è possibile usufruire della promozione. Selezioniamo il treno che ci interessa, è possibile visualizzare tutte le tipologie di biglietti, incluso quello scontato. Possiamo inoltre osservare che è attivo il codice promozione. Per continuare basta cliccare su Continua, si possono selezionare eventuali opzioni, si compilano i campi con i propri dati personali e poi si clicca su Vai al pagamento. Vediamo ora come usufruire degli sconti con Easy Parking, il parcheggio ufficiale degli aeroporti di Roma, Fiumicino e Ciampino. Easy Parking consente di avere degli sconti sulle soste in aeroporto e in più anche fino al 15% di sconto nei negozi al duty free e nei bar e ristoranti dell'aeroporto. È possibile usufruire del servizio con prenotazione e senza prenotazione. Vediamo ora il sistema con prenotazione. Clicchiamo su Accedi, selezioniamo l'aeroporto di Fiumicino o Ciampino, l'auto oppure la moto, la data di inizio sosta, l'orario e la data di fine sosta, compresa di orario. Clicchiamo su Cerca parcheggio. Nella nuova pagina potrete visualizzare le diverse tipologie di parcheggio con le tariffe già scontate. Per verificare che siano già scontate dovete guardare in alto a destra se c'è scritto Benvenuto, Benvenuta a Meme. Attenzione a non cliccare questo tasto perché in questa maniera invece vi sloggate e quindi visualizzerete le varie soste con la tariffa completa e non quella scontata. Scegliamo il parcheggio e se vogliamo pagare fisicamente a fine sosta bisognerà cliccare su questo prezzo in azzurro, se invece si preferisce pagare online si clicca su questo bottone arancione. Se vogliamo pagare online bisognerà qua verificare che tutti i dati siano corretti, aggiungere eventualmente il fast track oppure continuare senza il fast track, successivamente compilare i dati personali, la targa del veicolo e poi dopo cliccando su Continua sarà possibile pagare. Se invece si volesse pagare a fine sosta la procedura online si concluderebbe con questa pagina. In entrambi i casi si riceverà un'email con la conferma della prenotazione e altre informazioni pratiche e utili. Se non volessimo prenotare in anticipo dovremmo seguire la procedura descritta in questo pdf nel riquadro blu a destra. Per prima di tutto bisogna scegliere il parcheggio e iniziare la sosta. Poi si affronta il viaggio, al rientro, prima di ritirare l'auto bisogna recarsi in una delle casse automatiche. In queste casse automatiche bisogna inserire il ticket che è stato ritirato all'ingresso e, molto importante, scansionare il QR code. Questo è quello che consente infatti di applicare lo sconto del 30%. Infatti dopo la scansione sarà possibile appunto pagare con il prezzo scontato quel punto ritirare l'auto. Veniamo ora agli sconti previsti dall'associazione Coldiretti e Campagna Amica. Si prevedono degli sconti sull'acquisto della spesa o di soggiorni o di pasti presso gli agriturismi e mercati che aderiranno all'iniziativa. Clicchiamo su accedi e accederemo direttamente alla pagina di convenzione con il Ministero. Dobbiamo andare sul form di registrazione. Se non si possiede ancora la tessera virtuale bisogna compilare il form con i propri dati personali facendo attenzione all'email. Deve essere infatti un'email istituzionale, quindi ad esempio unacondominioistruzione.it. Infine, cliccando su Salva dati si riceverà un'email in cui bisogna cliccare su un apposito link per confermare la registrazione. Cliccando sul link dell'email si viene indirizzato in questa pagina e si riceve un'altra email con la tessera virtuale. Nella carta virtuale è presente anche il QR code che andrà mostrato alle aziende quando si vuole soffrire di uno sconto. L'azienda scansionerà il QR code e in questo modo potrà verificare che siete dipendenti del Ministero. Per ulteriori informazioni vi rimando alle pagine del sito di orizzontescuola.it.